Hai sete di primavera? Te la puoi togliere con fiori e frutti di paghera. Un'assoluta novità, standa, euromercato. Con 7500 lire, una quota del prezzo sarà devoluto all'ANFAS, Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli Ad Adulti Subnormali. Potrai riempire la tua casa di fiori e frutti paghera, un vero giardino e lattina. Basta solo aprire e annaffiare. Oggi una zuppa di pesce. Ehi, buona! E ragazzi, ma allora ditelo, no? Ehi, buona!